E deve intervenire anche Scesni, prima parata della partita per il portiere polacco, non difficile sul copo di testa di Cacciatore che ha subito anche un colpo alla schiena, l'arbitro non ritiene di dover interrompere il gioco, il Chieve è momentaneamente il 9, cede Sciglio, mette in calcio d'angolo ma Cacciatore è rimasto a terra, ha subito un colpo in zona lombare nell'azione precedente. Qui vediamo il pallone perso ingenuamente da Bernardeschi, la cavalcata di Jaroszynski che vede Birsa a centro aria, serve invece dalla parte opposta Cacciatore che arriva a colpire di testa, contrastato da Asamoah dopo aver colpito, viene spostato dall'avversario, il pallone era ancora in gioco, qui si potrebbe anche discutere. Perché è vero che Cacciatore aveva già colpito il pallone, ma il pallone era ancora in gioco, non era ancora arrivata la parata di Scesni e comunque anche in quel caso il pallone sarebbe stato in gioco e Asamoah è arrivato come un caterpillar a spostare Cacciatore in area di rigore. Al di là del fatto che Cacciatore poi si sia fatto realmente male o meno, e a giudicare da come si è ripreso non sembra aver subito danni irreparabili dall'intervento di Asamoah, si può discutere sul fatto che potesse essere un intervento degno di revisione da parte del VAR questo. Cacciatore, cartellino rosso, dovrebbe essere stato espulso, ovviamente le telecamere non inquadravano la zona delle operazioni quando ha estratto il cartellino rosso Maresca, ma dovrebbe essere arrivato, anzi sicuramente è arrivato un cartellino rosso per un giocatore del Chievo che resta in nove, dovrebbe trattarsi proprio di Cacciatore che ha continuato a protestare dal momento dell'intervento subito da Asamoah e ancora non ha finito, nonostante il provvedimento disciplinare, ormai chiaramente preso i suoi danni, Chievo in nove, il gesto delle manette, tanto caro a Giuseppe Murigno, da parte di Cacciatore Maresca non la prende bene e lo caccia via, va detto che se ha interpretato dal punto di vista tattico in maniera egregia questa partita il Chievo, dal punto di vista dell'ingenuità sta facendo di tutto per perderla. Doppia superiorità numerica per la Juve nei 28 minuti e mezzo restanti più recupero di questa partita.